Benvenuti all'angolo di Inofroni, siamo qui con il capitano dell'île Jacopo Bombardieri, salve buonasera a tutti. Allora appunto questa è la prima apparizione dell'île in questo torneo grande, dove ci avete conosciuto? E tramite gli amici nostri della zona che hanno detto che era un bel torneo e tutto, abbiamo visto pure i video, il sito, tutto è bello organizzato e abbiamo dovuto fare partire questo torneo. Vediamo tutti i ragazzi giovani, molto, sembrano molto preparati. Sì, noi già abbiamo fatto altri tornei e tutto, quindi i giocatori, anche la squadra, puntiamo in arte. Appunto, non conoscendo anche le altre squadre che sono... Infatti è meglio non parlare di tutto, però è una bella squadra e i giocatori fondamentali e speriamo di far meglio. Abbiamo capito insomma che questo lì punta in arte, lo staremo a vedere. Dall'angolo di Inofroni è tutto, grazie. Ciao cari. Ciao. Ciao.